buonasera non so se mi sentite allora riprendiamo filo anche nell'ultimo incontro cambiamo un attimo anche situazione sempre la carta d'europa ma alle nostre spalle che è un elemento dello spettacolo il memorioso una precisazione non è che ora io farò un monologo qui anche perché fare i monologhi via webinar è sempre complicato quello che farò è riportare un po a quello che è l'esperienza di questo spettacolo che il memorioso nato nel 2011 scritto a quattro mani insieme a paola bigatto e che sui testi di gabriele nissim il tribunale del bene e la bontà insensata ispirato questa il memorioso questa figura il protagonista di questa specie di conferenza ha la figura di bensky che sempre campeggia ecco nel dipinto di blanchard ed è un memorioso è un amante della memoria si è parlato molto di memoria si è parlato di forse forse questo memorioso una specie di uomo che viene dal secolo breve anche lui è uno scosso anche lui forse anche spirituale e ha questa passione per la per la memoria per ricordare i giusti e lo spettacolo è un vuole essere un percorso emotivo diciamo così un motivo nel senso del di risvegliare un'intelligenza del cuore che spesso che gli adolescenti forse sanno riconoscere a cui sono molto sensibili per raccontare queste storie di giusti bisogna immaginarsi immaginarsi una cartina alle spalle bisogna immaginarsi un'aula bisogna immaginarsi tante scatole di cartone in cui sono depositati degli oggetti dei mementi per la memoria l'ossessione per la memoria l'ossessione per ricordare anche perché non c'è mai abbastanza tempo e infatti tutto lo spettacolo è come dire cadenzato da una specie di metronomo da cucina che il memorioso ha preso in prestito da sua moglie per poter come dire stare nei tempi perché non si riesce mai a stare nei tempi anche perché c'è tanto materiale da ricordare è come se questa memoria più passa il tempo più si accumula del materiale e quindi tanti genocidi da ricordare tante e tanti giusti tanti gesti sconosciuti da riportare alla luce della memoria a riportarli come un pescatore di perle che si tuffa per riportare alla luce della coscienza e della memoria storie sconosciute e allora spesso il memorioso si aggira tra queste scatole da cui appunto le apre e tira fuori numerosi oggetti perché si era soffermato su un proprio su questo tema del che le impronte del bene vanno non vanno perdute però bisogna fare qualcosa per per riportarle alla luce per ricordarle e e si chiede che cos'è allora chi è un giusto qual è la definizione di giusto e la definizione giusto in cui inizia lo spettacolo è la definizione data dal Parlamento di Israele nel 1953 per onorare commemorare gli eroi e martiri della Shoah che è attraverso una lavagna che non è naturalmente questa immaginate una lavagna di Ardesia una lavagna della scuola come un tempo ingiusto è un non ebreo che ha rischiato la vita per venire in aiuto a un ebreo ma quello che si assiste poi nello spettacolo è che come se questa definizione come è stretta lui stesso dice è un'illusione pensare che sia semplice scoprire il meccanismo intimo di un uomo in un atto di bene in questi casi non si possono applicare le norme stabilite dalla legge come si fa in un processo penale il meccanismo del bene è complesso dedicato come fa stare dentro a una definizione la definizione di giusto e il memorioso suggerisce allora una possibilità una che ha a che fare con l'uomo spirituale forse bisogna sapere ascoltare il soffio del bene un giusto è un non ebreo è necessario pensare ripensare da tutte le angolazioni che ha rischiato la vita è necessario rivedere le proprie posizioni sempre per venire in aiuto a un ebreo è necessario tenere sempre aperti gli interrogativi e attraverso queste domande si si chiede il memorioso ma se ma se qualcuno non ha rischiato la vita cioè non si è mai trovato di fronte a una situazione di pericolo ma ha ottenuto lo stesso risultato cioè ha salvato delle vite umane non è anche costui un giusto e allora attraverso delle scatole porta alla luce la memoria di paul gruninger un doganiere distratto svizzero che distratto si fa per dire perché lasciava passare gli ebrei che fuggivano cercavano rifugio in svizzera fuggendo dalle persecuzioni dei tedeschi nel 38 oppure dell'altro console un collega di pietro cucchiango il console aristide de sosa mendes che falsificò migliaia migliaia di documenti questi uomini non persero la vita non la rischiarono persero la pensione persero la tranquillità economica persero l'onore in patria e quindi ecco che benschi il memorioso a cui si ispira appunto la figura del memorioso opera già un cambiamento e infatti dal 1970 al 1995 moshe benschi che fu il giudice il giudice del tribunale del bene dello yad vashem piano piano trasformò questo concetto per aprire anche a chi non aveva rischiato semplicemente la vita se no erano sarebbero stati solo degli eroi morti eh o delle figure irraggiungibili e invece eh come portando l'esempio di questi due personaggi ecco che la definizione di giusto si si modifica ma eh ma ma l'interrogazione continua e e e il memorioso si chiede ma mh un giusto è un non ebreo che ha rischiato per venire in aiuto a un ebreo eh e se qualcuno e se qualcuno ha rischiato la propria vita e non ha salvato nessuno conta di più eh il risultato o l'intenzione e mentre che si chiede questo ecco che tira fuori da una delle scatole un registratore un oggetto desueto per le nuove generazioni ma e lo fa andare è una voce dal passato e sembra emergere e chi è questa voce è la voce di jankarski nome di battaglia di jankozielewski uno dei più importanti combattenti della resistenza colacca fervente cattolico dotato di grande coraggio perfetta padronanza delle lingue memoria straordinaria era in grado di memorizzare parola per parola decine di documenti e una volta memorizzati non li dimenticava più scelto dai resistenti ebrei del ghetto di varsavia come messaggero per far sapere a tutti i potenti del mondo la verità sulla sorte del popolo ebraico ed ecco che il memorioso in scena come un traduttore simultaneo riporta le parole che i resistenti del ghetto di varsavia chiesero a a jankarski di riportare agli alleati come chiedendogli dica dica agli alleati che il nostro intero popolo verrà distrutto che la sola nostra lotta clandestina non potrà impedirla dica agli alleati di prendersi la responsabilità di intervenire che un domani nessuno di loro potrà dire ma noi non sappiamo niente dello sterminio dica che le città tedesche devono essere bombardate senza pietà che in ogni bomba ci deve essere un volantino che denunci la sorte del popolo ebraico dica che lo chiediamo perché la sola risposta a quello che ci stanno facendo che paghino i nazisti per salvare le donne i vecchi i bambini ebrei anche se contrario ad ogni strategia bellica dita agli ebrei di tutto il mondo di non mangiare di non bere di lasciarsi morire morire sì morire ciò può trascuotere le coscienze non ci facciamo illusioni ma lo chiediamo comunque si ricordi si ricordi si ricordi ed ecco che i jankarski vola in vola in europa vola in occidente per chiedere aiuto ma in occidente lo accolgono con queste risposte è impossibile prendere iniziative la sorte degli ebrei è una questione secondaria rispetto a quella di tutti i polacchi la gran bretagna ha già fatto abbastanza per accogliere centomila profughi non può fare certo di più dica ai polacchi che alla casa bianca hanno il presidente roosevelt come loro amico e presto saranno vendicati signor karski non possiamo credere non diciamo che lei stia mentendo ma siamo incapaci di credere allora il memorioso torna verso la sedia dove era lasciata questa questa radio dove emerse la voce di karski e dice a se stesso impersonando karski gli ebrei non hanno avuto fortuna con me ero troppo insignificante per suscitare interesse alla loro causa ma anche per jankarski il messaggero inascoltato che non ha salvato nessuno è stato piantato un albero nel giardino dei giusti la cerimonia si è svolta nel 1982 gli inascoltati e il memorioso continua continua a parlare ai suoi studenti continua a parlare a chi lo ascolta in questa specie di strana conferenza e dice ma per raccontare certe cose come jankarski ci vuole qualcuno che ascolti qualcuno che porga orecchio almeno che faccia finta un interlocutore e poi si rivolge proprio agli studenti che sono lì presenti solitamente che sono presenti nello spettacolo come pubblico e anche per per lanciare per protestare anche voi studenti per fare una semplice richiesta ci vuole qualcuno che 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 vi ascolti altrimenti ma di fronte a come dire al silenzio che di solito c'è di fronte degli studenti che non parlano in questo momento perché non capiscono cosa gli sta chiedendo il memorioso allora il memorioso invita invita a fare un viaggio di immaginazione immaginiamo immaginiamo di non essere qui ma in germania e non adesso ma nel marzo del 1933 sei anni prima dello scoppio della guerra per l'esattezza il 29 marzo del 1933 Hitler è da circa due mesi cancelliere del reich ossia primo ministro e già vengono promulgate sotto il suo governo le prime leggi razziali che avrebbero impedito agli ebrei le professioni pubbliche comprese quelle commerciali gli impieghi nella pubblica amministrazione niente insegnanti ebrei e niente studenti ebrei il memorioso chiede allora ma che cosa si può fare in queste circostanze tu solo di fronte al nazismo a chi ti appelli in che modo puoi esprimere il tuo dissenso a chi indirizzi la tua protesta cosa fai scrivi a Hitler e il memorioso muovendosi verso la scatola risponde scrivi a Hitler scrivi una lettera a Adolf Hitler cancelleria del reich brenner strasse 45 monaco apre la lettera e legge signor cancelliere del reich e rivolgendosi poi a un immaginario interlocutore con la sua comunicazione del 29 marzo di quest'anno il governo ha decretato il bando delle attività commerciali di tutti i cittadini ebrei noi tedeschi abbiamo sempre dato agli altri popoli il meglio delle nostre forze in occidente in sud america in russa gli emigranti tedeschi hanno contribuito ad accrescere ricchezza e fama di tutti i popoli e nonostante ciò non siamo forse stati discriminati quindi noi che così spesso abbiamo sperimentato questa ingiustizia dobbiamo fare la stessa cosa e causare la stessa sofferenza a un altro popolo questa domanda cade nel silenzio e allora insiste signor cancelliere del reich quella ragazza si dice n che a amsterdam ai campionati del mondo con la sua sciabola ha conquistato la vittoria per la germania si ricorda era una fanciulla ebrea si ricorda di tutti quelli dovrei riempire fogli e fogli se volessi fare solo elencare tutti i nomi la cui intelligenza il cui zelo hanno inciso per sempre nella nostra storia quindi le domando tutti questi uomini e donne hanno agito come ebrei o come tedeschi scrittori poeti hanno scritto una storia del pensiero ebraica o tedesca i loro attori hanno coltivato una lingua straniera o la lingua tedesca e allora perché si perseguitano perché si odiano questi straordinari stranieri del mondo i popoli non si conoscono vicendevolmente e questo è il male maggiore giusto giusto ancora silenzio allora il memorioso riprenda a leggere la lettera signor cancelliere del reich anche nel popolo tedesco non si sono forse mescolati ceppi e razze diverse lei stesso scusi non viene da un altro paese signor cancelliere del reich ma non si lasci fuorviare dagli uomini che l'accompagnano nella sua battaglia lei è mal consigliato interroghi la sua coscienza è stata sempre una prerogativa dei grandi spiriti riconoscere un errore riporti ripudiati nei loro uffici i medici nei loro ospedali i giudici nei tribunali non chiuda più le scuole ai bambini guarisca i cuori delle madri afflitte e tutto il popolo la ringrazierà perché se anche la germania potesse fare a meno degli ebrei ciò di cui non può fare a meno è della sua virtù ancora silenzio ma il memorioso che è in carna le parole di beckner continua signor cancelliere del reich ma non si tratta solo del destino dei nostri fratelli ebrei si tratta del destino della germania con la tenacia che ha permesso agli ebrei di diventare un popolo antico riusciranno a superare anche questo pericolo ma la vergogna e la sciagura che a causa di ciò si abbatterà sulla germania non saranno dimenticate per lungo tempo in nome del popolo per il quale ho il diritto non meno che il dovere di parlare come tedesco a cui è stato dato il dono della parola non per tacere quando il suo cuore freme di sdegno io mi rivolgo a lei sì a lei fermate tutto questo e nel silenzio nell'emozione nel trasporto il memorioso si lascia cadere i fogli la lettera e la raccoglie e scopre che dentro c'è un'altra lettera indirizzata al signor dottor armin theodor beckner apre e greggio signor dottor armin weggner le confermo ricevuta della sua lettera del 20 del mese scorso lo scritto allegato destinato al führer verrà a lui sottoposto non appena se ne presenterà l'occasione con saluto tedesco monaco 8 maggio 1933 la risposta del signor cancelliere del reich fu l'arresto la prigionia la tortura e l'esilio ma chi poteva immaginare nel 33 quello che sarebbe successo poi al popolo ebraico beh lui l'aveva immaginato lui l'aveva previsto anzi lui l'aveva già visto perché aveva visto un altro genocidio il primo genocidio del novecento la strage del popolo armeno le carovane della morte verso i deserti della mesopotamia e allora anche per armin weggner l'autore della lettera ci va piantato un albero che coraggio il coraggio degli inascoltati dei messaggeri inascoltati e il memorioso a questo punto si rivolge al pubblico e chiede ma che cos'è il coraggio è il requisito di tutte queste azioni ma intimamente profondamente cos'è il coraggio e su questa domanda lo spettacolo continua e altre storie verranno emergeranno da queste scatole di carta di cartone a come dire a trasformare il concetto di giusto e a vederne la complessità grazie grazie a tutti grazie a tutti